L'altro giorno mio nonna, mia nonna, Mari, se te muori prima tu, che è quasi sicuro, sopra la tombola, ce le scrivi, ci scrive, qui già c'è, nel senso che già c'è, mia moglie, sotto, sai che ci scrive, fredda come nella vita, la nonna gli ha detto, va buono, però pepe, se te muori prima tu, ce le scrivi, ci scrive, qui c'è Peppo, mio marito, finalmente rigido, il nonna non si arrese, dopo tre giorni, Mari, ma che te li metti a fare lo reggipetto, non ci hai detto niente dentro, e te pepe, è lo stesso motivo che tu dimittra il modano, grazie a tutti, Grazie.